Le luci sull'edizione 2024 del Mango Festival si sono spente. Paco Mengozzi, un bilancio di questa edizione? Bilancio estremamente positivo. È stata una festa, dall'inizio alla fine cinque serate bellissime, tantissime persone, musica veramente di alto livello, ospiti di altissimo livello, tutti estremamente felici di essere ad Arezzo, nell'accoglienza, nella location appunto del Parco Il Prato. Per cui questi 20 anni del Festival sono stati festeggiati veramente bene e siamo contenti che tutto quello che abbiamo un po' in testa, nelle idee, quando si è messo a tavolino a pensare come festeggiare al meglio questo anniversario, si è poi realizzato. E tra l'altro la chiusura, anche poetica, all'alba, la domenica mattina in fortezza con Polo Menvenu, è stata proprio la ciliegina finale di questa edizione. Finito questo Festival si sono susseguite alcune voci. Arezzo rimarrà la sede del Festival? Sì, sì, questo non è in discussione. Il Festival è nato, cresciuto e sviluppato proprio da Arezzo, ha in questa città la sua casa e quindi non c'è nessun tipo di discussione o problema da questo punto di vista. C'è un altro progetto parallelo che potrebbe nascere, sostanzialmente un altro festival, un altro tipo di evento a Cortona, in un altro periodo, probabilmente nel mese di agosto, con anche un taglio musicale completamente diverso, proprio per sviluppare e valorizzare quello che Cortona fa in termini di turismo e di promozione, quindi più legato agli internazionali, diciamo, a presenze internazionali. Menvenu è ad Arezzo, rimane ad Arezzo, secondo noi la location del Prato è la sua dimensione ideale.